È continuata anche ieri pomeriggio la protesta degli ultras della Curva Nord, in memoria di Gabriele Sandri, il tifoso laziale ucciso da un agente di polizia lo scorso 11 novembre. La parte centrale della Curva è rimasta vuota per i primi 20 minuti, mentre all'esterno circa un centinaio di tifosi scandiva cori che chiedevano giustizia per lo sfortunato 28enne romano. Giustizia! 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 Gli ultras hanno anche diffuso un volantino dal titolo Che sarà, sarà, in cui precisano la loro opposizione, parlando della morte di Gabbo. Qualcuno ha sparato con troppa leggerezza, un ragazzo è morto, si è arrivate all'estremo di una situazione che denunciavamo da tempo, dicono i portavoci del gruppo diffidati con noi. Gli ultras inoltre accusano la stampa nazionale e i vertici della polizia di aver cercato di nascondere la verità, dando così il via all'escalation di violenza partita da Bergamo ed arrivata fino a Taranto, con le sospensioni forzate delle partite in programma. Ieri infine gli ultras hanno ricordato con Cori e Striscioni e Ermanno Buaretto, giovane deceduto giovedì scorso a causa di un male incurabile. Il ragazzo era molto conosciuto all'interno della tifoseria ed anche la squadra ha voluto omaggiarlo poggiando un mazzo di fiori ai piedi della Curva Nord.